da quando è cominciata questa storia della casa soltanto dopo un poco di tempo proprio perché il mio canale youtube serviva per motivi didattici soltanto dopo un poco di tempo circa sei mesi ho incominciato a pubblicare video questo che vedete qua è un saccappello il saccappello dove io dormo perché nella mia casa c'è talmente tanto freddo talmente tanto umidità come potete vedere la dalla bacinella che c'è a terra che raccoglie acqua questo canale è diventato antipatica a molte persone continua a fare vedere il mio saccappello la mia postazione da notte allora io ho ricevuto delle minacce serie a parte le minacce reali fisiche perché se mi piove dentro può accadere in qualunque momento che io di notte mi alzi e mi rompo un femore a questo punto i danni dovranno essere pagati alla persona è veramente la a quel punto sarà brutto per chi dovrà subire le mie denunce oltre a questo mi è stato chiesto no sono stata minacciata di togliere quattro video dove si vedevano dei dati sensibili le persone che mi hanno chiesto di togliere questi dati sensibili non sanno che non appena ci sarà la sentenza del tribunale e saranno pubblici sia che io vinca che io perda io potrò pubblicare la sentenza del giudice e non ci penserò due volte a pubblicare la sentenza del giudice altre persone altre persone ha detto togli questi video perché ti stai facendo male no io credo come dice gesù nel vangelo non c'è niente che venga detto nel segreto di una stanza che non possa essere pubblicato proclamato sui tetti perfetto io me ne vado con questa convinzione e con questa convinzione il resto resta comunque il fatto che io dormo in questa situazione in sacca a pelo da quando è cominciato l'inverno ci sarà tutto l'inverno davanti a prescindere da come vada la sentenza i tetti non si fanno d'inverno ieri un perito è venuto prima ha urlato per telefono e mi ha detto mi mandi le fotografie via whatsapp io whatsapp non ce l'ho e ho detto no perché non mi sembra professionale non mi sembra professionale poi ha fatto una relazione eccellente che è andata al mio vocato va benissimo così la discussione è chiusa forse forse è chiusa perché prima si è permesso di alzare la voce con me senza che io gli avessi mai in nessun modo mancato di rispetto quello che non sanno queste persone è che io da un po' di tempo a questa parte ho imparato perché me l'hanno insegnato i miei alunni a registrare tutto tutto quello che viene detto in questi contesti quando vengono periti eccetera io registro tutto quindi nel caso in cui dovessi continuare a subire intimidazioni e minacce io il miglior pedalista di palermo non mi fermo davanti a niente davanti a nessuno che nessuno si permetta mai più di alzare la voce con me che nessuno si permetta mai più a procrastinare ulteriormente questa situazione che va avanti dall'aprile del 20 praticamente sono passati due anni io adesso mi sono seccata ma seccata sul vero senso della parola non tanto per la situazione in sé perché la situazione in sé mi ha fatto riscoprire qual è la verità della mia vita cioè essere totalmente completamente di cristo ma mi ha fatto capire anche che cos'è la verità che cos'è la verità e che cos'è soprattutto vedere che delle persone che non lo fanno per cattiveria non lo fanno proprio per cattiveria lo fanno proprio perché adesso sono assolutamente in difficoltà perché sono passati due anni e mezzo e non sanno più che pesci prendere non sanno più come gestire e dirimere questa situazione allora che nessuno si permetta più di minacciarmi che nessuno si permetta mai più di alzare la voce contro di me e che tutti tutti facciano il loro lavoro naturalmente il mio avvocato che è una persona degnissima è una persona che io amo moltissimo è una persona l'unica persona che io ascolto in questo contesto quando mi dice di fare una cosa la faccio quando mi hanno detto di rimuovere quei quattro video su youtube io li ho rimossi ma li ho conservati perché nello stesso istante in cui la sentenza sarà pubblica io ripubblicherò quei video mi dispiace per loro mi dispiace per tutta questa situazione perché poteva essere risolta benissimo quando nell'aprile del 20 incominciarono le prime infiltrazioni si è voluto perdere tempo sono stata accusata di cose che non ho fatto e dalle quali io ne verrò fuori pulita nessuno nessuno mai più si permetta di mancare di rispetto a una donna di 60 anni non lo faccia più nessuno ho tutto registrato